Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, oggi come potete vedere video dove non mi vedo perché parleremo del mio bullet journal questo è il mio bullet journal per il 2020 ed è un bullet journal dedicato alla lettura come potete vedere a differenza dell'anno scorso ho deciso di prenderne uno in copertina rigida perché secondo me si apre meglio quando poi voglio lavorarci e fare gli spreads e non mi si chiude quindi lo trovo più comodo ed era il bullet journal di Tiger, l'ho pagato 5 euro, scoracci style che poi ho personalizzato con questi adesivi che ho preso da Redbubble, vi lascio il link giù nella info box se vi interessa in modo da coprire anche dove c'era scritto bullet journal col fondo di Tiger che non mi piaceva tanto è un bullet journal che presenta come potete vedere questo elastichino per tenerlo chiuso ci sono due nastrini, ecco qui per tenere le pagine, dietro c'è una taschina per portarsi dietro che ne so del washi tape, degli adesivi, eccola si apre e poi ci sono le pagine, questo qua sono delle pagine che ha dietro così e poi ci sono le pagine con i pallini, adesso vi faccio vedere come ho deciso di organizzarlo perché c'è la parte introduttiva appunto del 2020 e poi vi faccio vedere il mese di gennaio direi di iniziare, le prime pagine ho lasciate vuote perché non si aprivano molto bene e poi ho iniziato con la pagina della cover con scritto Sarah's 2020 wedding journal come potete vedere ho messo, ho fatto questo disegno con dei fiori e poi ho attaccato quest'altro da raghino che è della stessa ragazza che ha fatto questo, mi piace tantissimo andando avanti poi abbiamo il 2020 at a glance, quindi sono pagine con il calendario praticamente di tutti i mesi ecco qui abbiamo gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, bla 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 fino a dicembre che ho personalizzato così in modo molto semplice, questo è utile per i compleanni devo ancora finirlo di completare, i compleanni, gli impegni più importanti eccetera eccetera quindi è una pagina solo di utilità poi abbiamo questa qua che è best books of 2020 ho fatto 12 riquadri, ho scritto di fianco il mese corrispondente e poi man mano che vado avanti metterò qui la copertina del libro più bello colletto ogni mese sempre se riuscirò a portare avanti questa cosa e se leggerò bei libri andando avanti abbiamo poi i miei reading goals per il 2020 in questa pagina ho attaccato anche questo adesivo sempre di Redbubble del washi tape, un altro adesivo e ci sono i miei appunto goals e qui ho fatto la cosa con questo collage con carta nera e carta da pacchi mentre di qua ci sono i 20 libri che voglio leggere nel 2020 e ho fatto questo cuore con tutti i libri dove poi appunto c'è la mia TBR e li colorerò man mano che leggo il libro corrispondente non lo so questa pagina mi piacciono davvero tanto secondo me una volta che viene quello lì colorato vengono molto belle poi andando avanti ho fatto questo qui che è books to read con una libreria che poi andrò appunto a colorare man mano che leggo i libri ci scrivo il titolo e lo coloro in modo da sapere quanti e quali libri leggo durante l'anno e poi questo qui movies to watch dove poi scriverò nelle varie caselle i film che andrò a guardare al cinema o che guarderò in generale poi abbiamo la pagina invece della mia reading challenge di goodreads del 2020 ho fatto tutte queste piccole celle aspetta che non si vede la scritta 2020 goodreads la devo un po' ripassare perché non si vede molto bene e poi ho fatto tutte queste celle fino al numero 56 per contare le letture che farò e poi qui sotto ho scritto reading challenge mentre questa è la pagina dei book hunters dove ci saranno tutti i libri che con Andrea e Mirko sceglieremo di leggere durante l'anno c'è questo washi tape e poi qui ho messo A di Andrea M di Mirko S di Sara how cheesy I am però mi piaceva tanto e appunto queste sono sempre pagine utili per me poi abbiamo una pagina per gli ARCs e una pagina per le copie omaggio quindi qui scriverò le copie staffetta slash ARC inglesi che mi vengono inviati e ho semplicemente messo poi del washi tape qui e qui mentre qui le copie omaggio che mi mandano le case editrici sono pagine molto semplici ma che appunto mi servono per tenere presente le mie letture e poi ho lasciato due pagine in più perché comunque le copie omaggio penso che riempiano più di una pagina sola e poi partiamo con il mese di gennaio che è tutto dedicato a Chilling Adventures of Sabrina quindi è terrificante avventura di Sabrina come potete vedere ho usato questo sfondo con un gatto mistico che è lo sfondo che ho usato pure Clarissa nella candela mi piaceva tanto quindi ho deciso di riusarlo e poi ho fatto questo disegno di questa maghetta con dei gatti con scritto gennaio e dietro il pentagramma che in realtà ho trovato su Pinterest e ho copiato poi abbiamo i video di gennaio quindi questa è la parte mensile col calendario nel quale io mi segno i video che devo fare e ci ho semplicemente attaccato questa fan art di Sabrina con del washi tape dietro e ho usato lo stesso washi tape qui andando avanti abbiamo poi la pagina haul e TBR come potete vedere qui c'è la mia TBR del mese e qui poi andrò a scrivere le cose che comprerò visto che non penso di comprare tante cose ci ho poi attaccato questa fan art di Sabrina con Salem poi abbiamo qui sempre una immagine della serie tv e il tracker dove segnerò gli scritti di Instagram e di Youtube e come cresceranno e quest'altra fan art di Sabrina con Salem poi abbiamo le reads che questa volta ho deciso di lasciarle così e non completarle perché di solito mettevo sempre già le copertine ma poi finivo per non leggere quei libri lì quindi alla fine lo completerò quando avrò finito effettivamente di leggere i libri per adesso ho soltanto scritto col dorato reads poi abbiamo l'Instagram tracker dove ho fatto tutti questi disegnini e la regola è che se sono argentati o dorati ho pubblicato su Instagram quel giorno se sono solo ripasta di nero non l'ho fatto quindi questo è il mio Instagram tracker e poi abbiamo serie tv come potete vedere ho già visto due serie complete e vabbè qui c'è questa fan art poi quanto guarderò queste qui in realtà non so il numero di episodi quindi ancora non ho fatto le caselle in penna e quindi questo e poi appunto abbiamo finito io sono molto soddisfatta alla fine il layout di ogni mese è uguale a come lo facevo prima ho praticamente modificato pochissimo però ho appunto aggiunto tutto il planning dell'inizio dell'anno vorrei fare qui, non l'ho fatto vedere ma ho lasciato lo spazio per fare una mood board però quello sarà un video a parte magari e niente sono molto soddisfatta è tutto molto semplice molto con pochi colori non ho voluto mettere gli acquerelli perché per fare quegli acquerelli ci mettevo molto tempo e volevo tenere tutto estremamente facile da fare da completare in modo da non perdere tempo e effettivamente farlo io spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere se anche voi tenete un reading bullet journal o un bullet journal su altre cose e se vi è piaciuto come ho organizzato il mio io sinceramente sono felicissima non vedo l'ora di iniziare a completarlo e colorare le cose perché secondo me verrà veramente bello 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 quindi sì fatemi sapere se volete altri video sul bullet journal se volete sapere io che materiale uso dove compro i washi tape se volete vedere dei video dove compro le cose vi faccio vedere gli old di quello che acquisto per fare il bullet journal di come cerco le fan art da inserire e niente questo è tutto per questo video e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi